Ciao a tutti! Che cosa sta facendo? Sono qua in adorazione dei miei occhi e scuartatelo. Come può essere pure questo piccolo manipolo, con questo piccolo piccolo esterno che è la sua tip, riesce a fare l'effetto della tensione del volto, vi riduce il doppio mento e toglie anche le borse degli occhi. Per quale ragione me ne sono innamorata? Perché cosa può renderti più bella che Agnes? Quindi, lo dico per tutti, venite a farvi una passatina di Agnes, vi renderà felici per sempre. Sto scherzando, ora faccio il medico. No, ottimo tecnologia, funziona meravigliosamente, serve per togliere il doppio mento, ricontorni del volto, ricontorni, notare, ricontorni perché all'inizio li abbiamo, ma negli anni un po' si cordano. Quindi per avere i contorni del volto e ancora togliere le doppie borse, le doppie bag degli occhi, le bag degli occhi e in più va a migliorare tutto quello che è il contorno degli occhi stessi. Quindi via le zampette senza laser, anche solo con questo trattamento perché in tre giorni siamo a posto. Ciao a tutti! Ciao a tutti!